Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua sul mio canale youtube ovviamente sono qua per dirvi che nel 2009 io ho fatto una seconda versione di troppe domande che però non è mai uscita sto ancora cercando di capire il perché non è mai uscita e forse l'ho scoperto forse perché non mi piaceva, non lo so comunque siccome sto ravanando in tutti i miei vecchi harddisk dal 2006 ad oggi più o meno ho trovato 25 harddisk in totale e dentro c'è un sacco di roba e per un sacco di roba intendo un sacco all'interno ho trovato appunto la seconda versione di troppe domande dove la storia va avanti perché nel 2009 la storia nella canzone è differente è un seguito alla prima versione e secondo me questa cosa a voi piace quindi se la cosa vi piace mi raccomando qua sotto fatemelo sapere con un bel commento mi raccomando e mi piace se raggiungiamo un buon numero di mi piace, un buon numero di commenti inizierò a pubblicarle gratuitamente qua su youtube magari ci abbinerò un video così, insomma, giusto per non lasciarli vuoti detto questo proseguo anche dicendo che all'interno di questi harddisk ho trovato oltre a questa, un'altra versione di Menefotto ad esempio ho trovato delle demo che non mi ricordavo degli inediti e un sacco di roba quindi insomma fatemelo sapere, se la cosa vi aggrada io volentieri le rilascio ora vado a ravanare negli altri harddisk e magari trovo qualcosa di molto più interessante o non lo so fate bravi, mi raccomando, vi aspetto